Buona serata, nuova edizione del TV giornale di Telestense che apriamo subito parlando del Ponte Sul Po perché è proprio di oggi la notizia di prime operazioni di cantiere per un lavoro che durerà quattro mesi. E' iniziata infatti in questo lunedì l'accantieramento del Ponte Sul Po che proprio a partire dal lato di Occhiobello comincerà ad essere diciamo così armato. Sempre da oggi è entrato in vigore il senso unico alternato dalle 9 alle 17 a cui si accompagna anche un altro provvedimento di viabilità arginale per rendere più fluido il traffico regolato dal semaforo al momento di attraversamento del ponte. I passaggi ciclopedonali peraltro sono stati chiusi. In vista della chiusura totale dal lunedì 11 giugno continua la distribuzione dei telepass. E parliamo adesso invece del caso Tomasi, una sentenza che ci aspettavamo, così appunto la famiglia Tomasi commenta l'assoluzione della Corte di Appello di Bologna relativamente al caso del Residence Regina Mare dell'Ido di Pomposa che fu accusato di abusivismo edilizio. Gli abbiamo sentiti per un commento. L'immobiliare Medusa, società del gruppo imprenditoriale Tomasi Case, è stata assolta con formula piena dalla Corte di Appello di Bologna che ha riformato l'impugnata sentenza di primo grado del Tribunale di Ferrara assolvendo gli imputati perché il fatto non costituisce reato. È stato quindi revocato il sequestro preventivo delle villette del Residence Regina Mare dell'Ido di Pomposa disposto dal Tribunale di Ferrara in data 28 febbraio 2017 con provvedimento immediatamente esecutivo. Una sentenza di assoluzione con formula piena che la famiglia Tomasi era certa sarebbe arrivata e che ha così commentato ai microfoni di Terrestense. Non ho mai avuto dubbi perché, anzi, sono rimasto molto sorpreso della sentenza che è stata a nostro sfavore perché sequestrare delle case alla luce del sole che fin dal 2003 avevamo chiesto le concessioni, ci vengono rilassiate tre anni dopo, dopo essere state esaminate da tutti gli enti della provincia, dal comune, da tutti gli enti competenti regolari insomma. Io faccio il costruttore, mi fido, do in carico dei più grandi professionisti che io credo e giustamente loro fanno le sue carte come si devono fare e ottengono la concessione dopo un anno, due o tre o quattro, il tempo che il comune ci mette e una volta che mi rilassi una concessione regolare, timbrata, esposta, esposta e stipulata anche davanti a un notaio. Per me è legge. Sicuramente era una sentenza che ci aspettavamo perché insomma eravamo fermamente convinti da sempre della regolarità di tutto il nostro operato amministrativo e non solo, che pone fine a questa vicenda che ci ha visto noi coinvolti con delle ingenti difficoltà che abbiamo subito, con delle ingenti difficoltà dovute al fatto appunto che tra l'altro proprio questo sito è un sito per noi molto importante, strategico, un residence che ben si inserisce a pochi passi dal mare in questo territorio dove abbiamo molto investito sia per la costruzione sia per rendere attrattivo dal punto di vista turistico, tra l'altro molto gradito al turismo italiano e straniero e quindi questo effettivamente ci aveva messo molto in difficoltà oggi perché la sentenza è direttamente efficace quindi siamo ritornati in possesso, ripeto non avevamo dubbi di questo però abbiamo chiuso questa vicenda, siamo tornati in possesso delle nostre unità e quindi possiamo andare avanti con i nostri piani di investimento in questo territorio che è stato per noi l'assurdo che una società come la nostra che ha sempre fatto dell'immagine, della serietà che soprattutto negli ultimi anni sta cercando di investire in questo territorio, cercando di conservare anche le bellezze naturali inserendolo in un contesto turistico insieme alle recettività, questo era una spada di Damocle che non accettavamo assolutamente e quindi adesso c'è un nuovo inizio e possiamo continuare con la nostra filosofia aziendale e andare avanti con i nostri investimenti. Adesso invece parliamo di politica nazionale e di flat tax, mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la flat tax sui redditi di impresa a partire dall'anno prossimo, il primo anno per le imprese e poi a partire dal secondo anno si prevede di applicarla alle famiglie. Queste le parole di Alberto Bagnai, parlamentare della Lega, possibile sottosegretario al Ministero dell'Economia, che il nuovo governo ha affidato le prime anticipazioni sull'azione del Consiglio dei Ministri. Sentiamo. Intervenuto da Guarà su Rai 3, Alberto Bagnai, parlamentare della Lega, possibile sottosegretario al Ministero dell'Economia, ha anticipato oggi i possibili interventi del nuovo governo sulla riforma fiscale, riforma che ha nell'introduzione della flat tax il suo cavallo di battaglia più discusso, sia per le improbabili coperture, sia perché rivela chiaramente l'imprinting di centrodestra. Nel programma di governo, Movimento 5 Stelle e Lega, sono stati ipotizzati, ha ricordato Bagnai, due aliquote secche, al 15% per i redditi familiari fino a 80.000 euro e al 20% per quelli superiori. Accanto a queste misure di sollievo per i redditi alti, ci sono le deduzioni per quelli più bassi, calcolate a partire da 3.000 euro per ogni componente del nucleo familiare, fino a 35.000 euro di reddito complessivo, per fermarsi ai soli familiari a carico nella fascia di reddito 35-50.000 euro e arrivare a nessuna deduzione per i redditi superiori. Il nuovo modello di tassazione per famiglie e imprese, che ha un costo di circa 50 miliardi di euro, andrebbe in vigore dal 2019 per le imprese e l'anno dopo per le famiglie. In contemporanea sarebbero eliminati spesometro, redditometro e studi di settore, misure il cui costo sembra per ora difficilmente quantificabile. Immediati commenti da parte del Parto Democratico che attraverso il senatore Mauro Maria Marino, presidente nella scorsa legislatura della Commissione di bilancio del Senato, dice che lo sgravio per le imprese sarebbe già stato varato al governo Renzi attraverso l'IRES, che aggiunge che la senatrice PD Teresa Belanova è stata di recente ridotta dello stesso governo. Di rincalzo Luigi Maratin, che sottolinea che la flat tax sui redditi d'impresa, esiste da qualche decennio. Prima si chiamava IRPEG, ora si chiama IRES e tassa, proporzionalmente, i redditi delle società di capitali. A ridurre dal 27,5% al 24% è stato il governo Renzi. Nel caso, aggiunge Maratin, che Bagnai si riferisse agli utili d'impresa delle società di persone, anche quella esiste già, conclude il neoparlamentare ed economista ferrarese. Si chiama IRI e l'ha fatta sempre il governo Renzi. La flat tax è come un robinudo al contrario, un regalo ai più ricchi e a spese dei più poveri. I 50 miliardi che servono verranno tolti a sanità e scuola pubblica, che sono già al limite, ha scritto su Twitter il coordinatore nazionale di MDP, deputato di Liberi Uguali, Roberto Speranza. E adesso invece torniamo a Ferrara, perché il capo di gabinetto della questura, Pietro Scroccarello, saluta la nostra città dopo quasi 20 anni per andare a ricoprire un importante incarico sull'isola d'Elba, ma probabilmente sarà soltanto un arrivederci. Vediamo. Pietro Scroccarello ha visto Ferrara cambiare dal 1999 ad oggi, ma l'attuale capo di gabinetto della questura, incarico che ricoprirà fino al prossimo 18 giugno, grazie al suo equilibrio e alla sua onestà, ha vissuto in maniera profonda la sua carriera nella Polizia di Stato Estense, facendo diventare Ferrara una casa per lui e la sua famiglia. Sposato con due figli, laureato in giurisprudenza, Scroccarello arrivò dalla questura di Chieti al comando dell'Ufficio di Prevenzione Generale e delle volanti di Polizia di Stato di Ferrara il 16 novembre del 1999. Due anni dopo, nel 2001, diventò dirigente della squadra mobile fino al 2011, anni in cui ricoprì l'incarico di capo di gabinetto della questura di Ferrara. Dal 2016 fino al gennaio scorso è stato anche dirigente della Digos. Fra pochi giorni partirà la sua nuova esperienza come dirigente del commissariato di Porto Ferraiolo sull'isola d'Elba. Innumerevoli ricordi positivi che Scroccarello porterà con sé di Ferrara, ma sarà solo un arrivederci perché Pietro Scroccarello ha detto che vorrà tornare, anche solo da turista, nella città estense. E adesso la cronaca. Andiamo a Bologna perché dopo 20 anni ha un nome, il presunto assassino di Valeriano Poli, un buttafuori bolognese ucciso sotto casa sua il 5 dicembre del 1999 con ben 8 colpi di pistola. Sentiamo. 18 anni e mezzo dopo per gli inquirenti ha un nome e un cognome l'assassino di Valeriano Poli, il buttafuori ucciso con una pistola a Bologna il 5 dicembre del 1999 in via Foscherara, a pochi passi da casa. La squadra mobile ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere ai danni del 59enne bolognese Stefano Monti. Le nuove indagini hanno individuato il movente dell'omicidio in una rissa scoppiata per futili motivi fuori dalla discoteca TNT nel marzo del 1999 fra Poli e Monti e altre persone dove Monti ebbe la peggio. Nel corso di questo diverbio ha attinto il Monti con una serie di colpi di cui poi per la verità si era anche pentito perché in quello stesso contesto risulta che gli abbia chiesto immediatamente scusa, polpi che avevano portato a delle lesioni importanti. Il Monti stesso sicuramente aveva il naso tumefatto, aveva delle occhiaie poi sotto gli occhi, quindi segno di lividi che si erano formati, questo lo abbiamo ricostruito rispetto a alcuni giorni successivi. Quindi questa è la causale, la vendetta rispetto a questo episodio dimostrata anche dalle minacce che il Monti già in quel contesto ebbe a profferire nei confronti del Poli quando disse tornerò con il cannone. Oltre a quegli episodi, nuovi accertamenti hanno permesso di ricostruire che Poli dopo la litio subì una serie di minacce. Poli in quei nove mesi aveva ricevuto una serie di minacce fatte dal ricevimento di alcuni spilloni per il confessionamento di ornamenti funebri e da lì lui si sentiva profondamente toccato psicologicamente e ha incominciato ad aver paura, nonché tra il settembre e l'ottobre del 1999 ricevere 5 bossoli di 7,65 sparati dalla stessa arma che l'avrebbe poi ucciso nel dicembre successivo. Passo fondamentale per arrivare alle individuazioni di Monti come esecutore dell'omicidio e le tracce di sangue trovate già all'epoca su una scarpa che Poli indossava quando fu ucciso. Oggi l'esame del reperto ha permesso di individuare il DNA proprio di Stefano Monti. Sui scarponcini che Poli indossava il giorno che è stato ucciso vienano delle gocce di sangue. L'estrapolazione di questo sangue che era stato già estrapolato nel 1999 è stato ammettato con una serie di personaggi tra i quali dapprima il figlio di Stefano Monti all'epoca detenuto e aveva dato un genotipico paterno compatibile. Poi con un escamotage abbiamo rilevato anche il DNA di Stefano Monti che è stato sovrapponibile a quello dell'assassino. Per fugare ogni dubbio sul fatto che le tracce di sangue di Monti sulle scarpe risalissero al giorno dell'omicidio e non a quello della risa di qualche mese prima, la polizia scientifica tramite una ricostruzione 3D utilizzata per la prima volta in Italia ha dimostrato che nel filmato di un battesimo del 21 novembre del 1999 in cui Poli compariva con le scarpe, le tracce di sangue non c'erano. Oltre a Monti una persona è stata denunciata in stato di libertà per favoreggiamento, ora le indagini proseguono per fare ulteriore luce su quanto accaduto quella sera. Ci rimane aperta come strada possibile che noi vogliamo verificare se fosse effettivamente solo il Monti Stefano in quella serata o se ci fosse qualcuno che anche solo come palo gli potesse avere dato un contributo fattivo nell'esecuzione dell'omicidio. È un tema di investigazione che ci vogliamo coltivare per avere quella risposta assolutamente tranquillante su tutti gli aspetti di questo omicidio. E adesso parliamo di maltempo perché temporali e qualche occasionale grandinata hanno colpito in giornata alcune zone del Ferrarese che vediamo con queste immagini di archivio. Il primo fenomeno si è verificato nella mattinata tra le 11 e mezzogiorno tra le zone più interessate quella di Masi Torello e dei paesi limitrofi dove è arrivata anche la grandine. L'intera settimana tuttavia porterà ad alternanze di sole e di piogge con fenomeni temporaleschi che tra mercoledì 6 e venerdì 8 dovrebbero portare anche ad un abbassamento delle temperature con minime attorno ai 18 e massime attorno ai 24 gradi. E adesso invece parliamo di un fenomeno dalla California a Casalecchio di Reno. arriva infatti un leader mondiale della realtà aumentata che sarà nel bolognese il prossimo 6 e 7 giugno. Vediamo. Un investimento nel bolognese di 24 milioni e 350 mila euro che comprende un contributo della regione Emilia Romagna di più di 6 milioni di euro e prevede 160 nuove assunzioni di cui 128 con laurea a titoli superiori. A farlo sarà Eon Reality, azienda californiana che sviluppa software e piattaforme digitali e che ha scelto di insediarsi nel bolognese alla Work Life Innovation Hub di Casalecchio di Reno per far nascere un centro digitale interattivo, uno snodo italiano per lo sviluppo di contenuti e applicazioni legati alla realtà virtuale aumentata. Tutto ciò grazie anche al supporto messo in campo dalla regione, reso possibile dalla legge regionale 14 del 2014 per la promozione degli investimenti in Emilia Romagna. Fondata in California, Eon Reality sviluppa piattaforme digitali per le imprese nel settore dell'istruzione e della formazione e ha collaborato con 400 istituzioni accademiche e 55 istituzioni governative. L'obiettivo del nuovo centro, che avrà tra i suoi partner l'Università di Bologna, è accelerare il rapporto uomo-macchina simulando la realtà, con l'aspirazione di diventare la piattaforma italiana per lo sviluppo di contenuti e applicazioni legati alla realtà virtuale. E adesso invece parliamo di sanità, in particolare del team specializzato in chirurgia ortopedica della Casa di Cura Salus, che sarà a disposizione dall'11 giugno al 7 luglio per effettuare visite specialistiche gratuite a Ferrara per approfondire problematiche ortopediche al ginocchio, anca e spalla. Quindi appunto ricordiamo dall'11 giugno al 7 luglio sarà infatti possibile effettuare breve appuntamento queste visite specialistiche con appunto gli specialisti della chirurgia ortopedica della struttura. La Casa di Cura Salus è inoltre accreditata con il Sistema Sanitario Nazionale per l'attività chirurgica ortopedica, offrendo la possibilità di effettuare interventi in città con una notevole riduzione dei tempi di attesa e o senza bisogno di spostarsi lontano dal proprio luogo di residenza. Attivo dal luglio 2016, il servizio di ortopedia della Casa di Cura Salus, diretto dal dottor Francesco Melan e affiancato da un gruppo di esperti anestesisti e da tutti gli specialisti della Casa di Cura, è composto oggi da un team di 20 specialisti che quotidianamente erogano prestazione di carattere medico e chirurgico su tutte le patologie traumatiche e degenerative in ambito ortopedico e traumatologico. E cambiamo argomento adesso, decine di persone ieri pomeriggio sotto un sole cocente a Sant'Agostino hanno partecipato alle camminate organizzate dall'Avis locale e dall'associazione Frizzemagna. A spasso per Terre del Reno il titolo dell'iniziativa che dopo Mirabello, Dosso e San Carlo in questa primavera ha portato le persone a conoscere il territorio e a capire quanto sia importante fare attività fisica e sensibilizzarsi verso la cultura del dono di sangue. Sentiamo. La manifestazione è stata approvata e è piaciuta a tantissime persone, tanto è vero che quando si va nei negozi, si gira per piazza, tutti ti chiedono, ti rammentano quando è che c'è la prossima, la fate ancora? La gente l'ha proprio presa nel migliore dei modi, è piaciuta tantissimo, abbiamo coinvolto tanta gente, 350 persone a tutte le camminate, almeno una volta per ogni camminata, perciò voglio dire la gente ha partecipato. Abbiamo deciso di fare questa passeggiata per le Terre del Reno, oltre che per conoscerci noi tre persone, per conoscere il territorio. Diciamo che è stata una cosa abbastanza impegnativa. Perché lei è qua oggi? Dunque sono venuta intanto perché mi sembra che questa iniziativa sia veramente così, è incommiabile e poi visto che siamo da poco Terre del Reno, mi sembra che questa iniziativa abbia un pregio ulteriore, quella di unire un po' queste frazioni, chiamiamole così adesso, che sono sempre state un po' scollegate, addirittura all'interno dello stesso territorio comunale, c'è sempre stato un po' campanilismo. Hai scoperto cose che non conoscevi del territorio con queste camminate? Sì, soprattutto Mirabello perché col fatto che ci siamo uniti da poco non l'avevo neanche mai frequentato, quindi ho tante cose di Mirabello, non le conoscevo, non le sapevo. Noi siamo un comune che sta ricrescendo dopo il terremoto, per cui la gente, tutti insieme stiamo ripartendo, questo ci fa piacere. Ecco, anche dopo la fusione c'è bisogno di questo tipo di iniziative che riavvicinino un po' tutti per superare i campanilismi? Assolutamente, mi sembra che i campanilismi stiamo, soprattutto grazie a merito della gente che partecipa, stiamo cercando di superarli e vedo che dai risultati direi che andiamo bene. Avis non può mollare, deve continuare nelle sue iniziative perché Avis deve fare prevenzione, quindi cultura del dono sicuramente, corretti stili di vita sicuramente e un terzo elemento che credo sia molto importante, conoscenza del territorio. Le camminate che hanno organizzato qui all'Avis in Sant'Agostino, oggi Terre del Reno, servono a questo, far conoscere ai cittadini il territorio e intanto socializzare e stare insieme. E prende il via mercoledì sera la venticinquesima edizione del concorso musicale Rock Cafè. Sentiamo dunque le novità. Cinque giorni di musica e divertimento, è ciò che attende Mal Borghetto di Buara, pronta per ospitare l'edizione 2018 di Rock Cafè. La venticinquesima edizione volevamo tornare col botto, se si può dire, e abbiamo deciso di rifare il concorso per i gruppi emergenti ferraresi. Ecco, venticinquesima edizione, cinque serate, che cosa succederà in queste cinque serate? Nelle prime due serate ci saranno cinque gruppi a sera che fanno parte del concorso e la giuria popolare e tecnica sceglierà chi arriverà alla superfinale di domenica, mentre venerdì e sabato avremo dei gruppi ospite molto importanti per noi che vengono a fare i loro concerti. Per voi di Mal Borghetto cosa rappresenta Rock Cafè, visto che è un piccolo centro ma che ha dato vita a un evento così importante? Per noi non può esistere Mal Borghetto senza il Rock Cafè, quindi ci teniamo che ci sia e ci spendiamo tutti gli anni perché avvenga questa bellissima manifestazione. Per noi è una festa, divertimento e lavoro duro, ma anche divertimento. Possibilità di dare spazio ai giovani e di suonare, soprattutto. E con la sagra di San Maurelio ci sono legami ancora? Sì, siamo tutti insieme quest'anno, abbiamo appena finito la sagra e mercoledì inizia il Rock Cafè. Abbiamo fatto un evento più piccolo ma tutti insieme, si spera che vada bene così. La gran finale è tra sabato e domenica, come terminerete questa edizione 2018? Domenica ci sarà la superfinale e ci sarà il premio della giuria tecnica che consiste per un gruppo un premio molto importante, tre giorni di incisione in sala prove da Sonica. Ci sarà anche un premio della giuria popolare, saranno due turni da 5 ore di prove in sala da Sonica. Vi possiamo trovare online per tutti i dettagli? Online per tutti i dettagli c'è Facebook, è molto attiva la pagina Facebook, ci sta dai ragazzi più giovani a venire a caffè e poi potete trovarci là da tutte le sere, dalle 18.30 con l'aperitivo e venire a parlare direttamente con noi. Come sempre vi ricordo il nostro sito telestense.it e i nostri spazi social, siamo su Facebook, Twitter e YouTube. Grazie dunque per averci seguito, come sempre edizione rinnovata, al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.